Si fanno le cose ma sembra che siano scollegate l'una dall'altra, perché se si punta sul turismo rurale, ripeto, ma allora perché la discarica di riceci? Perché? Ma non si può dire che non c'entra niente il comune di Urbino, perché il comune di Urbino, il suo consigliere, ha votato, il nostro sindaco è vicepresidente della provincia che determina le autorizzazioni, cioè non facciamo, ecco, finta di nulla. Approfitto per chiarire questa cosa di riceci, perché l'ho chiarita molto bene, però ancora continuo a fare questa cantilena, vanno con le bandiere lì, però io il primo di marzo ho chiesto una riunione urgente di Marche e Muservizi, al presidente di Marche e Muservizi, perché la provincia fa l'autorizzazione, ma non è che può decidere di chiudere il procedimento prima della conferenza dei servizi. Io ho detto a Marche e Muservizi, a tutti i soci, compreso Aera, riuniamoci, ma io ho chiesto con una PEC formale a tutti i sindaci della provincia, al presidente di Marche e Muservizi, riuniamoci per decidere di ritirare il progetto e di farlo da un'altra parte, perché la discarica serve. L'unica cosa che ho detto positiva, che la discarica non serve, invece io dico che serve, ma la riunione non è stata fatta, il 23 di aprile c'è l'assemblea dei sindaci per il bilancio, ma a questo punto è stata messa, la discarica la vuole? Il sindaco di Pesaro, tutti gli assessori di Pesaro che sono dei verdi, 5 stelle, comunisti e socialisti, non il contrario. Ci sono le carte. Scaramucci? Noi siamo per il nono la discarica di riceci senza se e senza ma, lo abbiamo sempre ribadito con la nostra coalizione di Urbino, il sindaco Gambini fa le PEC, noi invece pensiamo che bisogna collaborare con il territorio, con i comuni attorno, bisogna fare degli accordi politici come noi stiamo facendo già fin da adesso, perché poi quando si va nell'assemblea territoriale di ambito non basta sventolare le PEC o le mail, ma bisogna collaborare con gli altri comuni, bisogna avere la pazienza di fare degli accordi, delle trattative, non fare la voce grossa e poi non ottenere nulla. Inoltre noi non diciamo solo no perché siamo degli ambientalisti ideologi, ma anche perché abbiamo altre idee di sviluppo e di turismo sostenibile, perché pensiamo che la gestione del ciclo dei rifiuti vada gestita in maniera diversa, perché pensiamo che la gestione del ciclo dell'acqua, che è un tema che riguarda i comuni, ma anche le imprese, perché anche tante imprese sono preoccupate di quella che è la situazione dell'acqua, non è stata affrontata in questi anni, quindi i discorsi stanno a zero, no PEC ma tanta collaborazione con gli altri comuni.